Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu undicesima giornata della campionato di serie C2 girone C di calcio a 5 quest'oggi in campo United Aprilia contro il città di Ciampino fischio di inizio partiti, pallone che arriva poi Gallotti si accentra, si spola il destro Donazzola blocca Musilli ancora Galieti destro di Galieti, palla sul palo intercettata da Caracci allora può partire la transizione poi però break di De Marco De Marco sinistro contratto, ancora De Marco gran parata da parte di Leandri gioco un po' spezzettato poi Bernoni la deviazione da parte di Monti calcio d'angolo Bernoni per Galieti prova lui, che bomba e che vantaggio per lo United 1-0 Luca Galieti poi Galieti si gira Galieti prova ad andare via Galieti mette in mezzo arriva Gravano fermato all'ultimo istante pallone ancora per Galieti va via Galieti destro palla fuori parte Caracci sinistro sul palo devia in calcio d'angolo Gravano Trobiani va via Andreoli e Andreoli trava il diagonale vincente Caracci si difende dal doppio attacco allora Monti ancora Caracci Caracci scarica Gallotti salva tutto Trobiani dentro Perzi Antoni occasionissima poi poi il break di Bernoni Bernoni il destro palla sul palo pallone dentro Bernoni si gira Bernoni chiuso poi arriva Mosilli destro De Marco palla fuori Trobiani Bernoni Bernoni si accentra Bernoni può esplodere il destro lo fa e cala il tris si calcio d'angolo per il città di Ciampino il break però parte dello stesso Andreoli Andreoli il destro palla sul palo ma ancora extra possesso United occasione ancora per Andreoli Ziantoni va via Ziantoni a destra pallone al mezzo Donazzolo riesce ad intervenire poi Aprilia con De Marco De Marco pallone che non entra secondo tempo sicuramente a ritmi diversi poi Bernoni la parata di Bonacci pallone per Caracci prova da girare Bernoni ci riesce poi uscita di Donazzolo arriva il fischio arbitrale calcio di rigore parte Caracci il tiro e la palla in rete accorcia le distanze città di Ciampino Gravano 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 rimette subito le cose a posto poker dello United di nuovo più tre Bernoni calcio d'angolo mette dentro poi occasione per Valente poi Bernoni esce vincitore dal contrasto Valente mette in mezzo di nuovo Bernoni palla sul palo sbaglia il controllo allora Gravano va via in contropiede Valente tre contro uno Pacchiarotti palla fuori finisce la partita lo United d'aprile abbatte 4 a 1 il città di Ciampino da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu un saluto per risentirci al prossimo appuntamento grazie a tutti